Per acquistare crediti, IGVOLT è la soluzione, veloci, sicuri e rimborso gratuito. Link in descrizione col mio codice coupon. Bella a tutti ragazzi, Corgasmi che sono qui a presentarvi la prima squadra argento sul mio canale. Davvero una squadra fortissima che si riesce a fare per circa 50.000 crediti, quindi non una cifra folle, ma vi garantite una squadra argento veramente, veramente forte. È una squadra che quando ho utilizzato ho praticamente sempre vinto, tranne una volta in una partita in cui ho incontrato una squadra oro ma fortissima e il matchmaking di sto gioco fa letteralmente cagare, quindi succedono purtroppo queste cose ed è difficile poi quando incontro una squadra con ottimi giocatori oro giocare con una squadra argento. Comunque sia, è una squadra che mi è piaciuta tanto, vi mostro subito di cosa si tratta, andiamo subito con il portiere che è Carrizo, potete usare anche bizzarre, comunque qualsiasi portiere argento argentino. Carrizo mi è piaciuto perché ha delle ottime stats, tuffo e riflessi con 77 sono belli alti, buon valore di presa, buon valore di piazzamento, alto 1,87, prezzo relativamente basso, quindi direi che è un ottimo portiere, mi ha parato anche tipo due rigori, quindi ottimissimo. Poi andiamo con il terzino di destra, Juan Fran del Deportivo, se non erro, mi è piaciuto, secondo me i terzini non devono essere magari come l'anno scorso super veloci, ma basta che abbiano una discreta velocità, un buon valore magari di passaggio e comunque essere abbastanza forti in difesa. Lui mi ha fatto anche due assist in quattro partite giocate, perché le altre due non si contano nemmeno, in quattro partite mi ha fatto due assist, direi che è un'ottima media. Poi andiamo con i centrali, a destra ho messo Goals, che l'anno scorso veniva usato moltissimo perché aveva anche più velocità rispetto ad adesso che a 65, però resta comunque un ottimo, ottimo giocatore, non so come mi abbia fatto fare un assist. È forte in difesa, molto solido, molto orcioso, alto, quindi anche di testa le prende e costa pochissimo, 600 crediti circa. E invece il suo compagnone di reparto è Kenneman, argentino dell'Atlas se non sbaglio, veramente forte, mancino, quindi l'ho messo a sinistra, work rate basso alto, quindi è sempre in difesa, prezzo basso, sinceramente 1300 crediti, permesso uno scherzo. Cosa ha questo giocatore? Intanto ha un fisico della Madonna 84, per un argente veramente molto molto alto, 74 di difesa, quindi anche forte in difesa, velocissimo 76, non è una statistica secondo me fondamentale per i difensori centrali quest'anno, almeno fino adesso, però se ce l'hai tanto meglio. L'unica forse pecca, anzi pecchina, è quell'183 di altezza, non è super alto, magari avesse due centimetri in più sarebbe anche meglio, però non si può avere tutto, resta comunque un ottimo, ottimo centrale. E per completare la difesa, al terzino sinistro è Tapia, questo colombiano che l'ho preso più che altro per l'intesa, è molto molto veloce, quindi nei recuperi è ottimo, però per il resto delle statistiche fa un po' schifo. Per esempio, non so, dribbling 66, non è il massimo, difesa e fisico non è il massimo, contando che è alto 1,72, passaggio è orrendo, però comunque delle volte non è male, ecco, diciamo così, delle volte non è male, direi che ci può stare, ecco, c'è di meglio, ma ci può stare. Andiamo con il centrocampo, parte importantissima, fondamentale, troviamo Tissone del Malaga sulla destra, davvero un ottimo giocatore, un gol e due assist. Per questo è un giocatore che non ha delle statistiche altissime, praticamente in nessuna statistica, se non per il fisico e un buon valore di passaggio. Per il resto si presenta come un normalissimo giocatore, che però, dalla sua parte, secondo me, ha un ottimo controllo palla in game, mi è sembrato che abbia un buon controllo palla. Ha anche un bel tiro, se è per quello, mi ha fatto, se non sbaglio, anche un gol di long shot, comunque da fuori. Un buon passaggio, da cui derivano due assist, abbastanza buoni in difesa, comunque quando prende palla lui a centrocampo, si aggiustano un po' gli equilibri. Non lo so, sembra molto calmo, molto tranquillo, riesce sempre a fare il passaggio giusto. E per questo mi è piaciuto, perché oltre a farmi un gol e due assist, mi ha anche, secondo me, messo a posto il centrocampo. Ecco, diciamo così. Mentre il compagno di reparto a sinistra è Ramirez, sempre dell'Atlas, che linka con Kahneman. Mi è piaciuto abbastanza, mi era piaciuto magari di più l'anno scorso. Non è super veloce, ma ha, dalla sua parte, un buon tiro, un buon passaggio, un buon dribbling. E comunque il resto delle statistiche, dai, sono abbastanza buone. Certo, potrebbe essere migliore questo giocatore, ma per 950 crediti ci accontentiamo. Poi, il trequartista è Correa della Samp, che mi è piaciuto molto, mi ha fatto due gol e un assist. È abbastanza veloce, ha un buon controllo palla, un ottimo dribbling, 4 stelle abilità, tra l'altro, buon passaggio. Se si aggiustasse magari un po' quel tiro, sarebbe anche meglio, farebbe più di due gol. Per il resto poi costa poco, 700 crediti e anche alto, 1,88, cosa che non c'avevo neanche fatto caso. E quindi, secondo me, è un giocatore da provare. Non sottovalutabile questo giocatore, perché è davvero forte. E infine, andiamo con l'attacco. Come ala di destra, lo dovevo provare. Ignaki Williams, lo dovevo provare perché ha delle statistiche paurose. Potrebbe essere la migliore ala che c'è in questo gioco. Ovviamente, parlando di Silver. Quattro partite, due gol e un assist. Veramente forte. Quest'anno con le ali, magari non si fanno così tanti gol come negli altri anni. Però lui li fa perché è veramente forte. 22.000 crediti ben spesi. Perché? Andiamo ad analizzare le sue statistiche. È velocissimo. Cosa non super importante. Ma comunque, come dicevo prima, se c'è la velocità, è sempre un punto in più. Ottimo tiro. Io ho utilizzato scambi esterni. Quindi lui andava sulla sinistra. Ed essendo destro, rientrava sul destro e tirava. Io gioco così sostanzialmente. Quindi è un buon tiro. Difficilmente fallisce quando tira. Anche un discreto passaggio. Un discreto dreamy potrebbe essere qualcosa di meglio. Il dribbling, però ha quattro stelle abilità. Quindi ci sta. Ottimo fisico. Alto 1.86 con un'ottima forza fisica. Davvero fortissimo. Ha anche tre stelle piede debole. Quindi non le buttiamo via. Questo work rate alto, alto. Forse non è il massimo. Avesse medio di difesa sarebbe decisamente meglio. Ma non si può volere tutto. Questo è un giocatore da provare, ragazzi. Perché è veramente fortissimo. Poi, altro giocatore fortissimo. Secondo me è l'ala di sinistra. Copete. Provatelo. Perché non è per niente male. Ha solo due stelle piede debole. Ma se lo fate giocare poi a destra. Con cambio... Scambia lile. Scambia esterni. Come cavolo si chiama. Lui rientra sul sinistro. Ha un ottimo sinistro. Un ottimo tiro. Un'ottima velocità. Un buon controllo palla. Un buon dribbling. Davvero un buon giocatore. Purtroppo ha work rate d'attacco normale. Però comunque si ha due gole. Due assist. In quattro partite. Contando che l'ho pagato 350 crediti. Direi che siamo veramente in positivo. E per completare la squadra. Non poteva mancare il bomberissimo. Muriel. Che c'è sempre. È veramente forte. Mi ha fatto tre gol in quattro partite. Quest'anno faccio più fatica. A fare più gol che partite con gli attaccanti. Proprio perché ci sono anche... Non dimentichiamo i centrocampisti. Che segnano. Cosa veramente fondamentale. Comunque Muriel è veramente fortissimo. Quando prende palla è difficilissimo portargli la via. E segna sempre. Perché ha un controllo di palla meraviglioso. Una finalizzazione ottima. Una velocità sopraffina. Un dribbling pauroso. Un tiro veramente infallibile. Come dicevo. Quattro stabilità. Quattro stabilità debole. Work rate alto basso. Direi che questo giocatore è un giocatore perfetto. Purtroppo questo tipo di gioco secondo me si valorizza più il centrocampo che l'attacco. Una cosa veramente particolare quest'anno. E infatti più o meno i centrocampisti segnano quanto gli attaccanti o robe del genere. Comunque io vi consiglio di provare questa squadra ragazzi. Perché è veramente forte e competitiva. E non ve ne pentirete per 50.000 crediti. Credo che ne valga la pena. Comunque come sempre vi invito a lasciare un bel like. Treccetti mi piace uscirà una nuova squadra. Fatemi sapere nei commenti cosa preferite. Se volete magari che io faccia qualche squadra con qualche giocatore che è uscito nel Team of the Week. Ovviamente fatemelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram. Tutti i link come sempre in descrizione. Adesso vi lascio le clip. Ci vediamo al prossimo video. Bella raga. Ciao! Grazie a tutti